E ciao a tutti, oggi andiamo a fare il salmone Andiamo ad affumicarlo per una ventina di minuti sulla griglia con un po' di melo Aggiungiamo il nostro rub di bb cooking Andiamo con una generosa spolverata Dopo 20 minuti il nostro salmone, eccolo qua Bello affumicato Mischiamo il tutto Facciamo la forma dell'hamburger Andiamo sul nostro pianeta grill Salsina d'avocado Componiamo il tutto con un po' di cipolle E addentiamo il tutto